quelli della scorsa settimana per la sacrestia pontificia sono stati giorni impegnativi la piccola comunità di padri agostiniani in servizio nel palazzo apostolico ha dovuto preparare insieme alle suore agostiniane oblate del bambino gesù tutti i paramenti e gli oggetti liturgici necessari per il concistoro pubblico per la creazione di cinque nuovi cardinali mercoledì pomeriggio e poi quelli per la celebrazione della solennità dei santi apostoli pietro e paolo la mattina dopo questo è il servizio principale della piccola squadra che dipende dal maestro delle celebrazioni liturgiche ed è guidata dal 2009 da padre pavel benedic slovacco custode del sacrario pontificio prepariamo tutto ciò che è necessario per la celebrazione della messa o delle paraliturgie cioè o il vespro o un'altra paraliturgia o adorazione eucaristica prepariamo tutto noi qua in sacrestia le vesti del papa le vesti per i cardinali per i diaconi per i cerimonieri per i ministranti i calici l'epissidi dal 1992 noi continuiamo a svolgere la stessa funzione cioè le cose storiche le cose che i papi hanno usato nella storia cioè il tesoro del del santo padre cioè tesoro apostolico che siamo custodi fino ad oggi cioè abbiamo cura delle cose che ci sono di quelle che si usano e quelle che non si usano più cioè abbiamo sempre la responsabilità di custodire di far riparare di far funzionare tutto ciò che serve padre pavel con i confratelli da diversi continenti come padre nestor filippino padre jesus dal venezuela e padre olivier dal congo abitano nel palazzo apostolico accanto alla sala ducale a pochi passi dalla secrestia nuova alla quale si accede dalla sala reggia avarcando la porta che al lato opposto di quella della cappella sistina qui gli agostiniani prestano servizio dal quattordicesimo secolo dalla chiamata di clemente sesto nel 1352 il papa chiamò un agostiniano come custode del sacrario apostolico poi con diversi papi il ruolo è rimasto ma poi c'era istituita anche una comunità di più frati non solo di un frate poi nel 1600 è stato istituito vescovo che era custode del sacrario nel suo momento aveva titolo il sacrista pontificio era servizio per le cose che aveva il papa c'erano i calici le paramenti su tutto quello che serviva non solo per la liturgia ma anche quello che era suo per esempio c'erano anche i libri erano i sacrari anche quello aveva custode il compito di custodire e di restaurare di poi nella storia questo compito è stato diviso aveva tutte le cappelle papali che erano a roma o fuori roma aveva una grande cura poi con i patti lateranensi è stato istituito come paroco era la parrocchia di santana che è stata data agli agostiniani e poi è stato anche vicario generale di sua santità per la città del vaticano fino a 1992 quando è stato cambio il titolo è rimasto custode del sacrario apostolico ma sotto la guida di maestro delle celebrazioni del sommo pontefice dalla cappella sistina passando per la sala del pianto si accede alle sale del tesoro apostolico che custodiscono oggetti e paramenti di valore storico capolavori di arte orafa e tessile custoditi in vetrine tutti affidati alla custodia del sacrista pontificio e dei suoi collaboratori tra i quali anche dei laici nella sala delle mitrie alcune delle quali si usano ancora e delle tiare padre pavel ci mostra la tiara usata dal beato pio nono per la proclamazione del dogma dell'immacolata concezione nella sala riservata ai calici accanto ai tanti più recenti donati ai papi nel corso dei loro viaggi apostolici e a quelli gotici più antichi anche quello usato per la prima volta sempre da papa mastai ferretti l'otto dicembre del 1854 in mezzo a questi oggetti a ridi liturgici molti dei quali hanno una storia di santità svolge il suo delicato servizio la piccola comunità di padri agostiniani della sacrestia pontificia ancora padre pavel sant'agostino diceva che dove la chiesa ha bisogno bisogna servire bisogna aiutare a servire cioè dice non è servizio per noi stessi ma è per la chiesa per questo il nostro servizio qua in sacristia pontificia non è contro lo spirito del nostro ordine o della nostra spiritualità per quanto viviamo nella comunità la cosa più importante vivere nella comunità stare insieme e cercare di vivere in armonia e grazie a tutti grazie a tutti